Siamo convinti della posizione della nostra città che non è contro qualcuno come scrive qualcuno ma è per un Mediterraneo di pace, Napoli città di pace, capitale del Mediterraneo, contro le armi atomiche consentitemelo di dire anche una posizione di prevenzione e di lungimiranza prevenzione della salute e un'attività corretta di protezione civile quindi anche il rischio di incidenti che ci possono stare se si consente a questo tipo di navi di arrivare fin dentro la città e mi sembra che anche la risposta della Capitaneria di Porto è stata molto corretta e anche tutte le altre interlocuzioni quindi la nostra è una posizione forte, determinata, convinta dal punto di vista politico ed istituzionale e ci auguriamo che venga rispettata per il futuro dal Governo nazionale, non disattesa perché credo che sia importante che da Napoli possa partire l'idea che tutti i porti del Mediterraneo possano essere denuclearizzati, noi siamo stati i primi anche in questo e siamo convinti e contenti di aver fatto la cosa giusta sempre per e mai contro noi siamo contro il fatto che qualsiasi nave a propulsione nucleare o che in armi atomiche possa passare o sostare anche in rada nel nostro golfo quindi non è contro gli Stati Uniti o a favore di qualcun altro penso sia così chiara questa posizione che non può essere messa in dubbio da nessuno quindi è una posizione tra l'altro che ho rappresentato subito appena mi sono reso conto che era accaduto questa cosa e l'ho rappresentata formalmente anche prima che ci fosse l'attacco di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia con i missili in territorio siriano quindi non è una presa di posizione sulle vicende siriane è una presa di posizione per un Mediterraneo di pace per un Mediterraneo e un mondo senza armi atomiche e per prevenire, mettere in sicurezza e tutelare il nostro territorio e i nostri abitanti da rischio di incidenti è una posizione così netta quella di trasformare un pacifismo concreto dalle chiacchiere ai fatti e che lo faccia una città importante poi sappiamo perfettamente che ci sono i trattati internazionali le cooperazioni internazionali, i rapporti tra i governi nazionali ma noi anche in questo siamo una città autonoma è una città diversa che non rinuncia ai propri diritti, alle proprie esigenze, ai propri sogni cioè quello di vedere finalmente un Mediterraneo dove non si incrociano portaerei nucleari o missili nei cieli ma che ci possa stare un incontro tra donne e uomini per la pace, per lo scambio culturale per la fratellanza e la solidarietà cerchiamo nel nostro piccolo di fare la nostra parte non è che pensiamo di cambiare domani il mondo ma se si comincia dai piccoli passi forse un mondo migliore e più vicino di quello che si può immaginare grazie 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 grazie